veramente sono contentissimo per questo derby vinto in questo modo Christian Eriksen la mette sotto l'incrocio, non gira benissimo però in realtà cade benissimo quella punizione lì cioè parte, si abbassa, fantastico e pensare che il loro portiere Slam e Lecco aveva detto saltate e non è bastato, hanno saltato ma non è bastato perché Eriksen la mette e poi il rigore di Lukaku che rigore rabbioso, potente, imparabile frutto di una situazione del primo tempo nervosissima con Ibrahimovic e Lukaku che si sono bisticciati ma grande Lukaku perché ha fatto ammonire Ibrahimovic il karma poi l'ha voluto fuori non poteva andare meglio di così tra l'altro abbiamo visto l'Inter ovviamente in 11 contro 10 abbiamo addirittura provato il 4-3-1-2 non male assolutamente era giusto farlo se in superiorità numerica gli altri hanno un solo attaccante poi addirittura zero quindi bisognava assolutamente cambiare la difesa a 3 a quel punto lì non aveva senso tenere tre centrali aveva senso assolutamente andare ad attaccare anche con i terzini quindi Hakimi, Kolarov, terzini poi Young insomma giusto, bravo Conte ma questo testimonia il fatto che Conte è oggi bravissimo questo testimonia che quando non faceva queste cose quando abbiamo anche pareggiato, perso non mi ricordo più che eravamo 11 contro 10 non mi ricordo che partita e tenne ancora la difesa a 3 dimostra che avevamo ragione a criticarlo hai visto quando che caspita con un po' di di fortuna se vuoi ma anche di audacia e di convinzione la porti a casa la partita perché abbiamo tutto di tutto di più abbiamo di tutto di tutto di più abbiamo buoni giocatori assolutamente per fare una buona partita e l'abbiamo recuperata meritatamente abbiamo anche fatto in realtà un buon inizio non è che siamo stati inferi... godo 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 abbiamo fatto anche un buon inizio della partita in realtà non è che siamo partiti malissimo purtroppo con i golli di Ibrahimovic avete visto a vedere qualcuno che tira da fuori per noi è importante non solo per noi ma per tutti e a noi manca un po' questa cosa qua del tiro da fuori l'unico che tira da fuori è Eriksen poi Kolarov ma Kolarov gioca tra poco basso Eriksen è un giocatore che ha il tiro da fuori e ci ha provato anche una volta è stato rimpallato non ha avuto lo spazio però assolutamente era corretto metterlo in campo infatti appena è stato espulso Ibrahimovic dopo 2-3 minuti anche nel gruppo degli abbonati su Telegram ho detto caspita qui sì adesso ci vorrebbe Eriksen potrebbe giocare anche se volete anche regista anche se non è il suo ruolo ma potrebbe anche giocare lì perché ci potrebbe essere dello spazio e vedete che una punizione un tiro da fuori un qualcosa potrebbe venire fuori perché c'è la possibilità siamo in superiorità numerica centro campo dominiamo il possesso quindi potrebbe venire fuori qualcosa e infatti poi fa la punizione che è il suo marchio di fabbrica e la mette dentro al novantasettesimo o novantottesimo insomma cosa volete di più di così? fantastico fantastico e tutti quanti uniti tutti il gruppo che bello che bello grande tutto perfetto mi è piaciuto tantissimo tutto questo devo dire ecco che poi il Milan per carità complimenti si sono difesi comunque in 10 contro 11 e hanno provato a tenere botta però comunque hanno rischiato tanto il loro portiere ha fatto comunque delle parate importanti abbiamo avuto 2, 3, 4, 5, 7, 8 occasioni ho saltato il 6 5, 7, 8 comunque tante occasioni vai a vedere che erano veramente 6 comunque tante occasioni diciamo per segnare abbiamo avuto però non siamo riusciti comunque a finalizzare una volta la parata una volta abbiamo magari il tiro non esattamente perfetto di Lautaro una volta di Lukaku insomma una volta Vidal che potrebbe servire tranquillamente Collarov e a incapponito a tirare di sinistra data fuori di un metro insomma però abbiamo creato quindi bene detto questo veniamo un attimo a dire due tre cose anche sulla partita a livello tattico Sanchez mi è piaciuto tantissimo già da subito dall'inizio della partita grande voglia grande qualità nei movimenti e ha fatto il regista offensivo in effetti quando è entrato Eriksen Eriksen era un po' sprecato lì perché doveva fare quasi il metodista perché c'era Sanchez che veniva a prendersi il pallone caspita ma adesso non c'è più Brozvic c'è Eriksen in campo Sanchez stami tra le linee davanti ci pensa Eriksen a fare un po' di regia però vabbè tranqui in ogni caso mi è piaciuto Sanchez Perisic anche che poi è stato sostituito non ha fatto male ha messo due tre palloni molto interessanti in mezzo una volta per Sanchez una volta per Lukaku due palloni molto molto buoni è venuto anche due tre volte giù sulla corsia dribblando e andando in porta poi due tre occasioni invece poteva far meglio però insomma io noto che quando gioca da titolare è decente non è che abbia fatto partite entusiasmanti però è decente quando gioca da subentrato cioè entra partita in corso invece fa sempre peggio invece oggi tutto sommato poi è ovviamente entrato Lautaro Martinez assolutamente cambio corretto perché bisognava dare più peso offensivo e loro hanno con uno in meno quindi giustissimo il cambio però non è che abbia fatto malissimo giusto anche il cambio di Hakimi per dare più spinta invece di Darmian che ha fatto un buon primo tempo però insomma Hakimi è un'altra cosa e devo dire che ecco tutto giusto i cambi giusti Eriksen l'ha messo dentro non al novantesimo come lo Shakhtar vi ricordate anche contro lo Shakhtar che l'ha messo dentro all'ottantanovesimo e ha fatto due tre azioni che ne bastava una bastava un gol e eravamo qualificati l'avesse anche quella volta messo prima oggi invece oggi grazie al fatto che eravamo uno in più Conte ci ha creduto è stato un po' stimolato a metterlo un po' prima e alla fine ti ha portato a casa la partita e sei in semifinale Coppa Italia battendo il Milan avversario diretto anche in campionato con una botta anche psicologica di un certo tipo insomma dai 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 vittoria importante e sono contento speriamo che magari Eriksen si rivaluti un po' non lo so possa rimanere all'Inter Conte possa dargli un po' più di fiducia però non in quel cazzo di ruolo lì nel senso deve dargli un po' di fiducia mettendolo bene in campo perché in quel ruolo lì è proprio sbolognato è proprio messo lì perché non sai cosa fartene ecco a volte ci può stare come regista Eriksen però di per sé lui sarebbe più una mezzala è uno che deve arrivare al tiro deve tirare in porta Eriksen non può fare il metodista di qua di là di qua di là perché è ultimo uomo e non deve rischiare la giocata deve stare un po' più centro campo più che in mediana però vabbè amen l'importante è che abbia segnato e che magari possa un po' anche trovarsi un po' di umore un po' di morale e che Conte possa dire una parola positiva sui suoi confronti e che magari si ripulcia un po' il rapporto sempre considerando che non possiamo fare mercato e quindi è anche difficile poi sostituire fare brigare quindi tanto vale che te lo rivaluti e te lo tieni te lo tieni lì vabbè insomma non facciamo il video su Eriksen detto questo Kolarov mi è piaciuto molto ottima qualità dal basso assolutamente come terzo nell'andata avevamo perso contro il Milan tenendo D'Ambrosio e Kolarov il punto non era che Kolarov non potesse giocare terzo in difesa il problema è che non potesse giocare lui insieme a D'Ambrosio cioè il punto è che ci deve sempre essere uno su tre che è di qualità ma due devono essere centrali veri quindi Skrignal e De Vrij va bene e poi Kolarov o Bastoni Bastoni un po' più centrale però insomma sono giocatori che portano la palla che hanno qualità Kolarov ancora di più di Bastoni poi anche più esperienza e oggi ha fatto una gran partita mi è piaciuto veramente tanto ha guadagnato il giallo su Ibrahimovic ha fatto delle brutte punizioni questo è vero quindi fortuna che Conte ha messo Young al posto di Kolarov e la punizione l'ha battuta Eriksen perché se faceva battere Kolarov non lo so ma ha fatto delle brutte punizioni oggi non ha imbroccato una Kolarov però le giocate in campo nel gioco ha fatto una buonissima partita e mi è piaciuto veramente molto ragazzi poi spendo una parola su Lukaku io non l'ho mai visto così arrabbiato non l'ho mai visto così arrabbiato io di solito non giustifico mai sapete le reazioni che sia di Conte che sia del giocatore non le giustifico mai perché tu devi mantenere la calma però sono anche cioè non è che sono un robot sono anche un po' cioè ragiono anche un attimo se questa esternazione la fa Lukaku sono abbastanza sorpreso quindi vuol dire che probabilmente veramente è successo qualcosa è stato veramente provocato in maniera grave quindi fatico a dargli la colpa perché è la prima volta che mi fa una scenata del genere quindi ci deve essere veramente successo qualcosa di grave un conto è se me la fa Barella se me la fa Lautaro se me la fa Conte allora lì dico eh no sì ogni volta o Vidal ogni volta fate reazioni così e datevi una calmata non puoi far così però Lukaku è come dire se mi fa una reazione così Borca Valero o Zanetti cioè non l'ho mai visto in quel modo lì chissà cosa gli avrà detto Ibrahimovic in ogni caso devo dire che la sua sfuriata ha fatto a morire Ibrahimovic che poi è uscito quindi ci è andata benissimo e soprattutto gli ha dato una foga pazzesca perché ha fatto una partita proprio rabbiosa Lukaku poi e ha fatto ha tirato un rigore proprio che si è visto che era nervoso addirittura poco subito dopo nel primo tempo se non sbaglio scusate nel secondo tempo appena diciamo preso anche un fallo di nuovo da Romagnoli eccetera ha fatto addirittura una scappata Lukaku da quanto era rabbioso voglioso di vendetta ha fatto una scappata così veloce senza aspettare bene i compagni fare la sponda eccetera che è partito si è ritrovato da solo in attacco e poi l'ha data dentro a mi sembra Sanchez che però era super in ritardo e non c'era nessun altro quindi da quanto era rabbioso ha perso completamente la bussola è partito contro mi sembra Romagnoli ha fatto un duello pazzesco tanto via lunghissimo quindi per farvi capire quanto era fuori di testa oggi Lukaku indemoniato però mi fa anche piacere vederlo così perché Lukaku se si scatena è una belva Lukaku se si scatena ha una forza che è una cosa pazzesca io lo vorrei vedere sempre così non per la reazione all'arbitro o quant'altro perché se no prende provvedimenti ma per la tenacia in campo è migliorato molto perché quando è arrivato era molto più mollo Lukaku un po' abituandosi al campionato italiano e tutto quanto ha tirato fuori un po' di aggressività e questa cosa è buona perché ha una forza che se la sprigiona in maniera volontaria e controllata è pazzesca è veramente un'arma in più detto questo ragazzi io vi saluto vi rimando domani per i videopagelle il video per partita non sono riuscito a farlo per problemi tecnici ho cambiato l'hard disk insomma sono giorni un po' travagliati però sono molto molto contento e ovviamente domani i videopagelle per dare bei voti a tanti giocatori singoli e parlare un po' specificatamente di alcune cose ma devo dire grazie grazie Eriksen che ci hai portati in semifinale battendo il Milan al novantasettesimo con una punizione che ci mancava da tantissimo tempo l'Inter non segnava la sua punizione da Cancelo per sbaglio per sbaglio e buttò dentro quel pallone là ragazzi a domani amala